Cos'è che sei? Ma se te li chiamo, ma sono tipo delle mutande, quello di cui ho più aspettative E dopo verranno deluse E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video e con un nuovo telefono Un iPhone 13 Pro Max Finalmente l'ho preso ragazzi, commentate qui sotto se secondo voi è un ottimo acquisto, secondo me sì No comment Come no comment? Ho fatto un affare, 700 euro l'ho pagato Ma non perdiamoci in chiacchiere, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a spacchettare un pacco di tè Che ho preso io, quindi cosa vuoi tu? Eccoci qua Apro io, dai per favore Intanto vi diciamo un attimo quanti sono Ma allora, facciamo una alla volta Ho detto che spacchettavo io Lo so, ho cambiato idea, questa è una mia felta Sì ma voglio aprirla io Ma non dobbiamo aprirla, ma come fai il video? Allora ragazzi, è veramente ingestibile, sembra un bambino Te lo faccio aprire il testo, stai tranquilla, ma facciamo vedere un attimo prima che cosa ho preso Una felpa che poi vedremo, poi non adesso Ho preso questa scatola magica che non vi dico, la lasciamo per penultima Una cannottiera per fare palestra E c'è scritto never give up Che vuol dire? Mai Vabbè, poi questa cosa qua che è molto interessante per i video Questa sono dei bigodini Ma che bigodini, che i bigodini per i video Questa qua è una pettorina per fare i video col telefono così Per vedere i prodotti, le cose, ma anche per fare i video fuori Che è molto comoda perché la metti qua e fai i video E vedete la prospettiva dalla nostra prospettiva La mia cover, nuova, che Dani non me la compra, quindi me la sono comprata da sola Dovrebbe essere con il MagSafe Adesso andiamo a vedere È la ricarica per l'iPhone E infatti qua ho preso anche una ricarica completa per iPhone, smartwatch e cuffiette Io ho solo l'iPhone For the moment È un po' macellata Eh, vuoi, temo è così Poi ho preso degli orecchini, sono tantissimi Dopo li proviamo tutti Eh, madonna Ho preso questa qua sempre per YouTube Una luce C'era, era Serve per... È c'è una luce? È un supporto per il telefono? E sopra ha la luce? Anche a me no Non è un supporto per il telefono Dio santo, è una luce Perché nel video del Mac per dire c'è la scarsa luminosità E quindi questo ci salverà Ma io avevo capito che era un supporto No, non è un supporto È semplicemente questa luce qua Ah Sì, che andrà appunto a illuminare Ah, forse è un supporto Eh sì, forse è un supporto Ah, anche il microfono è questa roba Comunque... Ragazzi, Dio santo Ho appena scoperto che ho comprato un set completo di tre piedi Let's flash, microfono È la colorata Facciamo vedere bene? Guardate che bella Adesso la metto e vi faccio vedere Eccola qui Vediamo Eh ma devi girarti Cioè Dai, gira Fai il giretto Sei bella Giusto Ragazzi, continuerò il video così perché è veramente bella Nove Per te? Nove Secondo, nove e mezzo Andiamo con questa Mi servono dei resti Eh no Questa la voglio ma Cover dell'iPhone 13 Pro Max Tessuto bello Cioè tessuto, non è una maglia Bello Pensavo che era in feltro, lì come si chiama Boh, adesso ho pagato a 50 centesimi Ah sì, la felpa l'ho pagata a 5 euro tipo Ragazzi, abbiamo cambiato un attimo la postazione per farvi vedere intanto quanto è bello il mio iPhone 13 Pro Max, guardate che bello Sì, allora, non prega nessuno Beh, allora sì No Bellissima la cover, veramente bella Anche le fotocamere entrano alla perfezione Guardate che bene, cioè, le fotocamere entrano alla perfezione Questo è un bel 8 Cioè l'apertura qua Cioè Ragazzi sono lontani Eh sì Ok Non mi dice niente Boh, è bello Dai, per provare adesso Cambio Eccolo qui Dai, smettila di vantarti, eh C'è niente Sono fuori allenamento ultimamente Però Eh sì, sì Cos'è che sei? Ma Voto 7 Sì, effettivamente non mi veste molto bene Il prodotto magico è la pettorina per fare i video Molto bella, devo dire Anche questa ha pagato pochissimo Pensavo alla pettorina per il cane Ma cosa vuoi? Ma sono tipo delle mutande Tipo bretella Ok Eccoci qua Bello, mi piace Che bravo che sai già montarlo Sono uno youtuber Sì, qua metto il telefono Vi faccio vedere tutte le robe Ma posso anche alzarlo E fare proprio Un vlog In cui siete Me Me In cui vedete la mia prospettiva 9 Anche perché l'ho pagato tipo 5 euro La canottiera di 3 euro Andiamo avanti con questo qua Il migliore Mi sa che ho preso Quello di cui ho più aspettative E dopo Verranno deluse Si aprono così i pacchi No Non si distrinse tutto Allora qua c'è il cavetto USB-C USB-C Quindi ricarica rapida Qua c'è il libretto delle istruzioni Che non mi serve perché io so già tutto Eh sì Perché lui è nato genio no ragazzi Pelichiamo Pelichiamo Pelicholiamo insieme Hola Dobbiamo alzarlo così Ed è pronto per l'uso Esteticamente mi piace molto Cioè esteticamente è molto bella Dobbiamo vedere se funziona Si è illuminato Il che vuol dire che dovrebbe funzionare Ah ma dici che va? Si non è per l'iPhone È per tutto Cheat Ah si funziona Non ho mai utilizzato questa tecnologia avanzata Ma è veramente bello Che lo metti lì e si carica Non pensavo In automatico Adesso provo anche con le cuffie Eh adesso sai cosa si può Me lo puoi regalare Francia? Non te lo regalo È mio Te lo compri E poi Questo qua Così facciamo le chiamate così Eh sì Questo è il regalo Me lo hanno regalato Ah si? Si vorrebbe 25 euro Eh porca loca Però me lo hanno regalato Allora anch'io Scusa eh Proviamo con le cuffiette Non lo so dell'iPhone Però si carica Ah si vede che Funzionano anche le cuffiette Proviamo con l'orologio È molto vecchio Questo dell'orologio Ha tipo 5 anni Buongiorno ragazzi Questo ha un ottimo acquisto Per ora il migliore Best Buy Anche perché non l'ho comprato Me l'ha regalato Dai Non è giusto Sono contentissimo Adesso faccio un appello a Temu E gli dico Cosa fate? Eh Temu deve pagarci Dopotutto questa roba che facciamo Fonsorizziamo Voto 10 10 Orecchini No 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 È tolto apposta così li proviamo Questi qua Quanti è che li ho pagati? 2 euro? 3 euro? Ci sono questi 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 con le croci che ho già Però sono diversi Poi questi Questi Aspetta che li finisca di mettere Anche questi col brillantino Questi qua Quanti ce ne sono quindi? Ci sono 15 paia 15 paia Madonna Non li andremo a provare tutti Io proverei i migliori Chiudi gli occhi E te lo metto io Ciao 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 Grazie a tutti.